Tutti cerco di parlarvi di questo libro molto particolare in una cornice davvero molto bella Natura e tramonto della mia Sardegna al, come vedete, il tramonto sul mare. Dicevo, un libro per nulla semplice, perché Sorelle è molto speciale, affronta una tematica molto difficile quella della condizione delle persone affette dalla sindrome di Down non ai giorni nostri quando ci sono tante possibilità, tante associazioni, tante realtà a sostegno di queste persone bensì negli anni 30 del secolo scorso, quando ancora in modo sprezzante le persone venivano chiamate comunemente mongoloidi per una presunta affinità a livello fisico con le persone di razza mongola. È un libro ambientato negli anni 30 e 40, un libro che, come vi dicevo, affronta una tematica molto difficile anche perché è l'epoca in cui fu varato il folle progetto nazista della eutanasia e infatti i miei protagonisti vivono proprio in questa fase. Vi invito a leggerlo per scoprire tanti fatti curiosi riferiti all'epoca ma anche, vi anticipo, non è una storia tragica, anzi è una bellissima storia d'amore a livello soprattutto familiare.